Eeeh, il Milo o no? Sì, tu vai a andare nel Milo? Ti dico una pepinta tenne a andare Ok, no, ok Ok, no, ok Ok, no, ok Ok, no, ok Buat la 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 Ah Di li kagut una stagione Sì 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 Allora 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 Sì 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 Non è nani, ha? Un... Ehi! Come a me, la scende! Faccio! Grazie. 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 Sì, come un po' di più reale! Si non ci stai con i il vostro occhio, sai? Si non ci stai con i il vostro occhio, sai? Sì, sì! 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 Non ho scusso, la città di fatto che io hanno ragione. Ma ora come un po' di nuovo, ma è quando è stato un po' di nuovo, ma è un po' di nuovo. Non lo hanno ragione, è un po' di nuovo. Sì! Aì! Ho ancora più l'anata il camera. E se mi rimane, il riuscito, per farlo. Che mi rimane! 3,000 euro? Sì, rimane, è di nuovo. Sì, siamo rimane.